Musica Hello guys, Remden and I here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo in una mappa parkour per minecraft di nome Mania Come leggete dal titolo E vediamo subito cosa ci dicono Allora le rule qua sotto Allora nessun tipo di TP Ok Bla 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 Non devi rompere i blocchi Non devi usare i software di terza parte E vorrei leggerlo tutto quanto Però devi cercare le ceste nascoste E niente, potete prendere i diamanti E non usare i cheat Ok L'essenza di questa mappa è un parkour molto difficile Bla 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 Ok quando muori praticamente E caddi Perdendo più di Rimanendo a meno di 5 cuori Muori Perfetto Ok Ok Niente che ci interessa Possiamo partire subito Sì 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 abbiamo compreso l'essenza Double tappiamo Allora qua abbiamo 4 Ok Mountain scape Numero 1 Easy Quattro livelli totali Andiamo Allora qua cosa abbiamo Bla 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 Ah ok Butta i diamanti qua dentro Non abbiamo i diamanti Non abbiamo i diamanti I want Big Diamond Ok nel primo livello ce ne sarà uno Ok Quindi cerchiamo level 1 Easy Perfetto Siamo spawnati qua E quindi andiamo avanti È una mappa parkour molto particolare Io ho provato solamente questo pezzo Che state vedendo in questo momento Ma Come ben capite Già me lo sono dimenticato In pratica Quindi GG per me E perché una mappa parkour Perché vi avevo detto Che volevo ritornare a fare le mappe E quindi Checkpoint per Randy Haha Bitch Volevo tornare a fare le mappe E quindi GG Intanto io sto cercando le chest Perché non so dove possano essere E Seconda cosa perché Ah vedete Ci teletrasporto e moriamo proprio In lava Proprio a cazzimma Ci piace Ci piace molto E Oltre a questo anche perché Sto ideando in realtà È una cosa molto strana È un po' Ecc No Sono un pirra È un po' eccentrica Per la serie di Minecraft Che potrebbe piacervi alquanto Quindi bro Attenzione Attenzione Randy Ha una sorpresona per voi Mamma mia Sto salto Ma riuscirò mai a farlo? Dai Su È un salto Mica è È I don't know Cioè è un salto Sto saltando E questo Meno male che è easy E quando è hard Che cazzo è Ragazzi Io già ve lo dico Io già mi sto spaventando Di questa Di questa Parkour map Quindi Se la roba diventa troppo difficile Mi vedrete Hard Sclerare Ok Ok Un checkpoint Per me Ok ci sono chest dietro No Mi sembra Mi sembra di no Ok quindi Salta 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 Chest Chest Nessuna chest Ok Allora se notate differenze con la qualità video di solito È perché sto utilizzando Fraps Perché sto utilizzando Fraps Perché Dxtory ha deciso bellamente Ah e quindi mo Ah devo risalire di qui Dxtory ha deciso bellamente di non farmi registrare Perché quando apro Dxtory e registro Mi registra tutto a 60 fps A 20 fps Voi Pensate le mie grosse e grosse risate Quando passo da 150 fps a 20 Perché sto registrando Quindi un applauso Dxtory Che ci fa queste belle sorprese Così Perché gli va praticamente Eh Dxtory Dxtory Mamma mia E quindi niente Sto usando Fraps Fatemi sapere se l'audio e il video Sono di qualità Come al solito Perché se non vi piacciono Ovviamente poi cerco di migliorare Se mai Cerco di risolvere sto problema Con Dxtory Che mi ha infastidito Non un poco Brothers Ve lo assicuro Perché quando siete abituati a usare un pro Eh porco cane Ma sto salto è fattibile Quando siete abituati a usare un particolare programma A cambiare È un po' un problema Però GG per noi Allora Io provo a fare l'ultima volta sto salto Se no poi lo faccio a telecamera spenta Ecco telecamera spenta Torno da su e continuiamo A tra poco Ok bro Ce l'avessimo fare Ce l'avessimo Eh no per No ma questa è la trollata Voi non avete idea del tempo che ci ho perso Per fare questo salto stupidissimo È la trollata per eccellenza Ma iniziamo subito Ma è la prima puntata Ma cazzo Almeno la prima puntata Fammela fare tranquillo No 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 Eh no Stavolta No Eh 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 Bitch Ok E quindi dicevamo Il fatto di Dixory che ci ha un po' Rotto le balle Però Però è una trollata Cioè no no Questo salto è una trollata Questa mappa mi trolla Mi trolla E quindi niente Però alla fine Devo dirvi la verità Sono piuttosto contento Di aver trovato una soluzione Per la registrazione Perché oh mio dio Fermi tutti Ci siamo riusciti Oh yeah Oh yeah Ok Dobbiamo andare di qua C'erano ceste per caso I don't know Ma non me ne fotte Oh Là c'è una pleasure Là c'è una pleasure E un coso in diamante Chissà se è la fine del livello Sì è la fine del livello Ok Quindi Ah vedete Level 1 È uscito a destra Quindi dobbiamo fare Level 2 ovviamente Ok E quindi stavo dicendo È un po' Sono contento di aver risolto Perché effettivamente Era problematica Se no E Grazie per questo salto Impossibile Come cazzo si fa Chiedo scusa Ah no 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 Non me cazzo Ah sì Devo farlo No Qua inizio Qua inizio No perché sono di nuovo qui Non ci voglio mai credere No Bro mi ha trollato tantissimo Dovevo tornare Ok Ci torno Ci torno Tra poco Scusate Ok bro Ci siamo ritornati Non so perché Si era mezzo Buggato il punto di salvataggio Ma non è un problema Allora Ci facciamo Dobbiamo fare quel salto In pratica Io devo saltare E andare un po' Sinistra Per poi andarmi Infrociare Su quella scaletta lì Eh però Mica è semplice Mica Me lo potevi togliere Sta cosa No eh Allora Dobbiamo fare sto salto Praticamente così E poi arrivare là Il che non è per niente Semplice Ok 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 rendi Ma to Perché Perché Si è bugga tutto Si è bugga Aiuto Aiuto Perché fa così È bruttissimo Brothers Allora Ricorriamo Fatto prima Eh no Niente Perché mi impallo Sull'angolo È brutto Davvero brutto Ok Ce la farò saltare Arrivo Andiamo avanti Andiamo avanti E il salto del destino No 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 Non era il salto del destino Intanto qua si sta facendo a notte Ma non so quanti try ho fatto Please Randy Please Ma manco per il cazzo Please Ok bro Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ve lo dico io Ve lo dico io Che ce la possiamo fare Se non facciamo così Ce la possiamo fare Dai Su 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 Poi Sbaglio Poi salti semplici Ah ecco Mi dovrei Dare Le potions Of the Of the Of the Cazzo Adesso ce le Ce le prendiamo Ok bro È venuta la pioggia La neve La notte I fulmini Si è buggato pure l'audio De minecraft Oh Audio de minecraft Ah no ci sta Non si sente il fulmine Ok Allora dobbiamo saltare su quella scala Se crepo Oh Set Oh Checkpoint Checkpoint Mamma mia Mai felice Mai Non sono mai stato così felice Di vedere un checkpoint Come No per capire No no Per capirci Come Ah Amica Chi l'aveva visto Chi l'aveva visto Ce ne stanno altre Ok qua c'è C'è la roba Mi dovrei dare No Mi hanno scritto su facebook Muto un attimo Chrome Adesso Appena La prossima morte Muto Chrome Se mi riscrivono E bro Come cazzo ci arrivo Così Così No Così sì Però se ci resti Rendi Ci dobbiamo prendere delle torci Eee Ma io arrivo sempre là Ma perché non lo mollo il tastino Rendi Rendi pirla R Porco cane Porco Mmm Io lo so Io lo so che voi ci state godendo Fate Guarda quell'idio Deve non riesce a fare un salto su una scala E me lo sto dicendo anche io E che Che No Perché Ma che cosa vi ho fatto di male Ma perché Ma signore Si incassa nell'angolo Ma Io dico no Questo 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 che vedete adesso Non proprio questo Quello Eh no Avete capito no Quello che state vedendo adesso Non ce la faccio più Questo cazzo di setup Tan 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 Posso farci un Un rap Con i rumori di minecraft Eee E porco cane Ma no vabbè Non ci voglio mai credere Perché va avanti da solo Io mi fermo L'ho lasciata la tastiera stavolta Dai Dai Guarda Ma va avanti da solo Ma come cazzo è possibile Ma me lo faccio così Ma va a cagare Vai Vai a cagare Vai Vai a Cagare Vai Oh là Ok Lascia 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 E dove cazzo Devo andare adesso Aiuto Non dirmi Devo andare Alla dentro Non ci voglio mai Devo andare Alla dentro Bro Devo andare Alla dentro Ok Non so come si fa Come si fa quel salto È impossibile Ecco Ecco In proposito di salti Impossibili È improbabile Oh mio dio Ma questa mappa È uno sclero allucinante Brothers Vi consiglio di provarla Ovviamente vi lascio Il download in descrizione Come al solito Lo sapete Io lascio sempre i downloads Delle mappis In descrizione Perché se no Non mi sembra proprio giusto Che io Mi prendo le mappe Degli altri Eh però C'ho fratello caro Eh mi ci devi fare Anche andare Là dentro Perché se no Qua non andiamo Più avanti Ok Ci rivediamo Quando riesco A fare quel salto Perché è allucinante A tre poco Ok bro Ce la possiamo fare Allora secondo me La dobbiamo fare Sotto sotto al muro Quindi io ce provo Sotto sotto al muro Oh E non c'è Carica Non carica Sotto sotto al muro Giustamente Ma mannaggia lui Non salta Altro che non carica Non salta Non so Sei un deficiente Sei un pirla Pi un Ok Allora Il gioco è crashato Di brutto Non so perché Non me lo chiedete E poi dite no Non mi crasha il gioco Beh Poi parole grosse Mi crasha il gioco Anche quando c'ho le mod Proprio crasha di più Quando è in vanilla Che senza Porco cane Ma minecraft Il culo proprio Io riuscirò a fare quel salto Però ve lo giuro Ve lo prometto Fosse l'ultima cosa che faccio Allora È tornato il giorno È tornata Non ci sta più la pioggia E qui si fanno tutto E io non riesco a fare sto salto Allora Come la voglio mettere No Per piacere Io C'ho una serie Da mandare avanti bro Una serie Cioè Vorrei dire Se noi ci fermiamo qui Tipo Pace fratelli Signore Signore E Randy E casca E casca E bravo Pirla Dovevamo scendere Dovevamo scendere Forse no Chi lo sa Moriamo Boh Thank you Allora dicevamo Siamo arrivati qua E andiamo di qua Ok Qui Dove cazzo si va Ah si scende Allora eravamo andati bene E allora dobbiamo andare di qua Penso E poi Da qui dove Che lo scussi No No Non è effettivamente quello Com'è Dove cazzo devo andare Chiedo scusa Ok Di qua non ci sta niente Non è che ci sono delle scale lì Io non le ho viste Qua no Qua non ci sono scale Bro Io non vedo scale Non vedo neanche posto in cui posso saltare Quindi me ne vado qua E vediamo Ok Forse devo andare in qualcosa di più alto Mmm Di qua non c'è nulla Allora c'è un command block I love command block Anche se non so i comandi Però va bene uno Stain No No però forse lì era giusto Forse lì era giusto Forse ho capito dove dobbiamo andare Ok Fermi tutti eh Ok Recupera la vita Perché se non moriamo Alla Ok qua si salta Eh Avete visto Avete visto che Il programmatore di questa mappa È stronzo Mafia a un certo punto Ti fa capire Piano piano dove devi andare Mi sembra Dark Soul Versione percorso Minecraft Ok Andiamo su Andiamo su Bitch Ok salto Il salto di Randy Il salto di una renna Che ha perso tutto E vuole però rischettarsi Oh yeah E mo Penso che dobbiamo andare di qua Vedo strane Strane creature Oh no Oh di nuovo le scale No 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 Eh però Devi saltare come te dico io Bello del papino Ok Ce n'è un'altra Lì No no Eh siamo caduti Cazzo Ok Ok È giusto È giusto È giusto Vai No no Bella Mamma mia Mamma mia Mamma mia I brividi Mamma mia Mamma mia R Porco Che no Mi butto giù Arrivederci Non me lo rifaccio Allora siamo di nuovo qui Facciamoci questo sprint Ragazzi Finiamo sto pezzo E poi Chiudo perché Se no avviene un video Lungo mille milioni di anni Di parkour Penso che Sia anche Un Un po' noioso Mamma mia Porco Che io Io proprio Do il peggio Delle mie voci strane Sul parkour Non è possibile Cioè proprio Mi esprimono tutto Porco Rosic time Every time Everywhere Randy Every Everywhere Randy Every Rosic Yes Ok Allora Riusciremo a fare questo salto Chi lo sa No 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 Allora salta Per piacere Allora guarda Guarda non è difficile Là ci sono delle scale Tu sei qui L'importante è fare Un movimento di Salto Rotatorio Che cazzo sto dicendo Non lo so Brothers No I don't I don't Però Eh però Ecco E che Sono cascato da solo Così GG Allora Io riuscirò a fare quel salto Ve lo prometto Se cado adesso Taglio E poi ci vediamo Quando riesco a farlo Perché It's not possible It's not Porco Per tutti quelli che mi dicono Randy Ma tu Si cheat Quando fai Parkour No Non li uso Al massimo Chiudo il gioco E ritorno dopo una ventina di minuti Perché sto tipo Impazzendo Tipo Tipo Randy Please È una cazzo Un salto Dai Ok però Dopo aver finito di cenare Dopo aver Rosicato Il milione di volte Ho riaperto il gioco E vediamo Dove faccio salto Io mi ero fermato qui Adesso devo fare solo quel salto lì Poi abbiamo finito il livello Penso Oh 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 Oddio Oddio Sto 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 quasi per morire Sto quasi per venire Ok Ne va della salvezza del mondo Randy Ne va della sal Dove cazzo devo andare Dove cazzo devo andare Lì Aha Ok Ne va della salvezza del mondo Randy Del mondo Non ci voglio mai credere Non ci voglio mai credere Vado a buttare un attimo giù Chiedo scusa Ok Allora dicevamo No di nuovo da qua Che balle Ci rivediamo là dentro Ok bro Dopo svariate ore Ho capito dove cazzo devo andare Da quel salto Arrivate qui Invece di andare di là Dove sono andato io Dobbiamo andare di qua Perché di qua Adesso vi faccio vedere Perché di qua Scendendo Vedete c'è quel blocchetto là Qua sotto dove abbiamo fatto Quel salto impossibile All'inizio Ok Perfetto Quindi qui Facciamo Questo mamma mia Questo salto qua E poi là Io penso che qua Ci casco almeno una volta Almeno una volta Ci caschiamo Oh invece no Invece no Grandioso Grandioso Ok Mamma mia Fermi tutti Perché qua Mi sta La gasca A rimembrare il pc Vai su Oh Si 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 è accesa Ok Bro Dopo milioni di anni di scleri Sento Lava Si Eh vabbè Noi ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando Lasciate un milione di like A questo video Se vi piace questa mappa Scaricate la mappa Se ci volete giocare Che è qua sotto In descrizione E noi ci vediamo in un prossimo video Lasciate un vi piace Un commentino E passate dalla pagina facebook Che è sempre qua sotto In descrizione Enjoy E che la renazia con voi Bye bye